Oh, hai saputo? Due giorni fa è morto l'inventore della Bic, quella con cui scriviamo tutti. Ieri c'è stato il funerale e io ci sono andato, ma mi hanno cacciato via. E perché? E perché parlando dell'incidente mi è scappato detto, ci ha lasciato le penne. Se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sull'icona qui a destra. Ah, dimenticavo, è gratis.